Sul campo Michael Phelps, una situazione abbastanza scioccante che abbiamo avuto il piacere di seguire alla Mondiale di Roma. Trova l'avversario in Ryan Lochte, un Lochte progredito a stile libero in maniera impressionante. Questo è un bellissimo primo piano di Sean Fraser, il ragazzo della Cayman, la rivelazione all'interno di questa finale. Corsie, come vi sono state presentate, che vedrete dal basso verso l'alto dei vostri teleschermi ed ora pronti al blocco di partenza. Con Lochte in Corsia 4, il favorito sorvegliato speciale, grandissimo duello con Paul Biedermann e occhio a Danila Isotov in Corsia 1, la prima in basso. Poterà sicuramente un passaggio veloce Isotov, così come è stato al campionato europeo. Non sarà facile però riuscire a staccarsi dagli avversari di sola. La velocità aggiunta di Ryan Lochte in quest'ultimo periodo, davvero completo, quest'atleta straordinario dallo stile libero elegantissimo e potente, morbido, con una grande propulsione di gambe anche in spinta di birata. Ryan Lochte che qui cerca subito di mettere le cose in chiaro, anche se c'è la grande partenza di Lobby in seve ed il passaggio super aggressivo di Tommaso d'Orsogna, cuffia gialla. Sulla sinistra dei vostri teleschermi da quell'inquadratura, tra poco lo vedrete invece in alto, mentre il solito atteggiamento di Paul Biedermann che spara tutto nel finale, mentre in Corsia 4, la quarta dal basso, cuffia scura. Ryan Lochte ha già cominciato la propria progressione, siamo alla passaggio di metà gara, Lochte che raggiunge e supera per pochi centesimi d'Orsogna e poi Lobby in seve attardato di un decimo poco più. Pericoloso portarsi dietro Paul Biedermann, il tedesco ha dimostrato di avere un'accelerazione finale unica al mondo, anche se in questo 2010 non ha avuto lo stesso impatto di quanto mostrato al Mondiale di Roma. Si sta per sviluppare il duello che verrà lanciato dalla Corsia numero 6 di Paul Biedermann nei confronti di Ryan Lochte, anche se Danila Isotov in prima Corsia cerca di anticipare il tedesco. Lochte al comando, ma ancora mai poco alla fine con Isotov che cerca il recupero dei confronti di un Lochte comunque strepitoso. Il primo in basso cuffia azzurra che vedete in questa immagine è Isotov che però non può più raggiungere Lochte, lanciato verso il suo primo oro nei 200 stile libero. Primo oro mondiale in corta per lo statunitense in questa specialità che ha ulteriormente abbassato il primato della manifestazione 1,41 e 8 centesimi. E si ribalta l'ordine dei 200 stile libero con questa prova, scende dal podio questo abbastanza clamoroso Paul Biedermann, si conferma Isotov il miglior europeo ma si deve inchinare al grandissimo Ryan Lochte, il miglior tempo al mondo con costume in tessuto, meglio addirittura di Ian Thorpe in grande spolvero. Aveva 1,41 e 10 l'australiano che ha lasciato in eredità questo crono ormai solo simbolico. Ottima la prestazione di Melluli che riesce a raggiungere un terzo posto nella prova che meno gli si addice dello stile libero, i 200 lui che ha votato più che altro al mezzofondo. Straordinaria la prestazione del due volte atleta dell'anno Ryan Lochte che ha aperto alla grande da protagonista il suo mondiale in corta a Dubai, qui lo vediamo mentre va a schiacciare la piastra d'arrivo della corsia numero 4, quella del miglior tempo di qualifica ma in questo caso anche del miglior tempo in finale, quello che gli vale la medaglia d'oro. E per lui una conferma più che positiva, cosa aggiungere invece su una Paul Biderman che non è più l'orca trita record della scorsa stagione.